Palla di fuoco Successo! Lancio palla di fuoco addosso al gruppo di goblin vicino alla porta blu Faccio 15 danni ad aria Spazzati via con un solo incantesimo e vai! Ok, quindi lasci che il troll che è dietro con il martello giallo Ti faccio un attacco di opportunità Era dietro la colonna Quale troll? Quale colonna? Io ho attaccato i goblin vicino alla porta blu Non ho colonne vicino! Ma no, Joe! Alla porta blu ci sono io! Tengo bloccati gli orchi! Non vorrei mica uccidermi! I goblin sono andati sulla parete rossa per proteggere il loro capo Muro rosso? Quindi hai scagliato la palla di fuoco sull'esagono dove era lei No, aspetta! Ehi, ma il muro rosso non è dove è morto il cavaliere con lo scrudo dorato? No, è morto nel corridoio incrostato dalle molte muffe malefiche Contro il muro rosso ci sta Leonardo che ha perso i sensi No, aspetta! Ma allora io dove caspita sono esploso? Ah, ragazzi, possiamo andare avanti? Io ho caldo con il costume Chiara, la palla di fuoco di Giovanni ti fa sette danni senza tiro salvezza Visto che è rivoltata di spalle E con i danni riportati dal precedente combattimento direi che sei morta Ecco, lo sapevo! Sono morta anche stasera per colpa tua, Giovanni Non posso giocare così! Non si capisce nulla senza mappa sul tavolo! Che palle! Ah, basta! Io mi sono rotta! Me ne vado! Chi vuole dell'altra pizza? Ehi tu! Sei stanco di giocare di ruolo senza supporto visivo? Stanco di morire per colpa di una palla di fuoco accidentale scagliata da un tuo amico? Ma sta parlando di me? Stanco di subire attacchi di opportunità da troll dietro le colonne? Sta parlando di me! Allora stai cercando Role Master Role Master ti permetterà di costruire le tue mappe di gioco in un nuovo e coinvolgente ambiente visuale Avrai a disposizione qualsiasi elemento per costruire la tua ambientazione Non dovrete più usare fastidiosi fogli di carta o arrangiarvi con quello che avete a disposizione Role Master vi permetterà di rappresentare al meglio l'area di gioco senza più perdere nessun dettaglio Dite addio alle noiose e confusionarie sessioni di gioco Inoltre Role Master ha tre fantastiche modalità di costruzione La modalità assistita ti permetterà di costruire velocemente un livello Mentre le altre due ti permetteranno di dare dettagli che nessun altro prodotto sul mercato oggi può offrirti Infatti Role Master non ti vincola a nessuna griglia E le potenzialità di costruire sono infinite Quello che ti rimane da fare è posizionare le pedine ed iniziare a giocare Con Role Master puoi muoverti in un ambiente virtuale Visualizzare gli spostamenti dei tuoi compagni e tenere sotto controllo i tuoi nemici Role Master è un marchio registrato Goblin Soup Ci vediamo su Role Master Grazie a tutti